ciao sono simone ti do il benvenuto in questo nuovo appuntamento del nostro corso dedicato a dark table dove affronteremo un argomento molto importante di questo software ossia quello di poter applicare le modifiche fatte ad un'immagine ad una serie di altre fotografie un aspetto molto importante nelle fotografie per esempio fatte in studio che siano still life o di ritratto visto che le condizioni sono sempre uguali le modifiche più o meno sono sempre le stesse ad ogni immagine prima di iniziare permettimi solo di ricordarti di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere il prossimo aggiornamento per spiegare questo processo abbiamo questa serie di fotografie quattro fotografie che sono tutte uguali quindi le stesse condizioni di scatto con lo stesso ritaglio quindi la stessa composizione quindi facciamo due semplici modifiche a queste immagini andiamo per esempio a cambiare il valore di esposizione completamente a caso non voglio fare un tutorial su come modificare le immagini abbiamo già fatto abbastanza ma semplicemente fatti vedere come applicare le stesse modifiche a più immagini facciamo anche un ritaglio molto veloce per esempio andiamo a modificare e togliere gli elementi di disturbo ecco qua abbiamo la nostra immagine ti ripeto molto casuale quindi andiamo sul tavolo luminoso abbiamo fatto le nostre modifiche alla prima immagine ma vogliamo applicare le stesse modifiche anche alle altre come possiamo fare possiamo fare semplicemente selezionare l'immagine con le modifiche andare qua destra nella parte sempre del tavolo luminoso e andare a selezionare o coppia o coppia selettiva con coppia copierai tutte le impostazioni del accordo di sviluppo con coppia selettiva andremo a selezionare solo le impostazioni che vogliamo noi per esempio eliminiamo l'esposizione queste sono quelle che fanno in automatico dark table quando carica una fotografia e lasciamo semplicemente il ritaglio facciamo ok andiamo sulla seconda fotografia e andiamo in in cosa selettivo e vedi che abbiamo ritaglio e l'esposizione non è selezionata ok se noi andiamo nelle nostre fotografie la prima è quella con l'esposizione ritaglio la seconda dovrebbe essere semplicemente ritaglio mentre la terza esattamente com'è la terza e la quarta dovrebbero essere rimaste invariate quindi con questa impostazione visto come è facile copiare le modifiche fatte su un'immagine sulle altre esiste anche un'altra impostazione sempre per fare questa operazione che permette di creare praticamente una sorta di preset quindi andiamo sulla nostra fotografia principale che è la prima e andiamo su stili vedi che abbiamo diverse possibilità qua dobbiamo avere la lista di stili ma non ne abbiamo fatti abbiamo crea importe e via dicendo andiamo su crea ecco la nostra fotografia selezionata perché vedi che se noi non selezioniamo nessuna fotografia non possiamo creare quindi selezioniamo la nostra prima fotografia crea e in questo pannello abbiamo la possibilità di selezionare le varie impostazioni che noi vogliamo utilizzare come preset quindi tralasciando quelle che inserisce in automatico dark table noi abbiamo agito su ritaglio ed esposizione immaginiamo per esempio di voler mantenere solo esposizione quindi togliamo il ritaglio la chiamiamo esposizione il nostro stile che agisce solo su esposizione e andiamo a salvare e vedi che abbiamo il nostro stile esposizione se noi per esempio andiamo sulla terza fotografia e clicchiamo due volte su esposizione vedi che lo stile è stato applicato quindi cosa vuol dire che il ritaglio è rimasto lo stesso ma l'esposizione è cambiata la seconda era solo ritaglio la prima è con ritaglio ed esposizione applicata quindi tramite lo stile ha la possibilità di creare infiniti stili e infiniti preset praticamente da applicare altre fotografie quindi per esempio in questo caso potremmo andare a creare sempre utilizzando la prima un altro stile basato essenzialmente sul ritaglio quindi troviamo esposizione lo chiamiamo ritaglio salviamo e se noi andiamo sulla quarta fotografia e clicchiamo su ritaglio vedi che viene applicato il nostro ritaglio all'immagine quindi gli stili sono un altro modo che hai per applicare le modifiche diciamo inserire più immagini ma un modo diciamo più efficiente di quello che abbiamo visto prima perché ti permette praticamente di creare dei preset quindi si tratta di uno strumento veramente performante se pensi soprattutto che non finisce qua perché se per esempio noi andiamo a prendere un'immagine che abbiamo già elaborato un po più elaborata abbiamo per esempio il paesaggio che abbiamo elaborato in una lezione scorsa e andiamo a creare uno stile sulla base delle modifiche fatte qua vedi che abbiamo anche le maschere quindi noi possiamo salvare direttamente anche delle maschere nei nostri preset quindi uno strumento veramente veramente spettacolare quindi più si va avanti nella scoperta di questo software più si scopre che non ha nulla di invidiare assolutamente a Lightroom bene anche con questo video abbiamo finito e sinceramente non ci credo un video di Darktable un po più corto spero che ti sia piaciuto nel caso lascia un bel like o un commento fammi sapere cosa ne pensi e ci vediamo nei prossimi appuntamenti